Cia ed Unicredit aprono nuovi orizzonti al comparto agricolo nell'agro sarnese nocerino. Lo fanno in una terra che conta su due prodotti top di assoluta eccellenza, il pomodoro San Marzano ed il cipollotto nocerino. Lo fanno alla luce delle nuove opportunità occupazionali che l'agricoltura offre a chi ne sposa le peculiarità con la versatilità che deriva dallo studio, dalla preparazione e dall'approccio scientifico ad un settore che da sempre fa parte della storia economica, sociale ed umana dell'area a nord della provincia di Salerno. Questa collaborazione è fatta sia con la Confederazione Italiana Agricoltori ma con le tre centrali organizzative e professionali rappresentativi a livello nazionale. Viva Dio che è arrivata, il momento del credito si avvicina all'impresa, l'impresa guarda ai flussi finanziari e alla possibilità di poter aumentare il capitale circolante all'interno dell'impresa agricola in un modo completamente diverso. Ci auguriamo che si possa prendere a volo questa opportunità, ci auguriamo che si apra un momento di collaborazione e di reciproca valorizzazione del comparto agricolo con quello con il momento bancario e finanziario, ci auguriamo ancora una volta che le istituzioni, soprattutto a livello locale, si avvicinino al comparto agricolo per conservarne in via essenziale la territorialità. Abbiamo bisogno del vincolo agricolo in questa zona, abbiamo bisogno di bloccare la cementificazione selvaggia, abbiamo bisogno di snidare ogni e qualsivoglia equivoco circa la centralità del settore e quelle che sono i prodotti di nicchia che noi abbiamo. Un ultimo argomento, abbiamo nell'agro due DOP importanti come il San Marzano DOP e il Cipollotto. Non perdiamola questa occasione, non perdere questa occasione significa che noi potremo essere competitivi in Italia ed in Europa. Attenzione, veramente l'appello che si fa in questo momento è quello di guardare fortemente a queste due DOP per non perdere nessun treno e nessuna occasione. Ritengo che il settore agricolo rappresenti in questo momento l'unica chiave di lettura, l'unico elemento economico di sostegno per dare impulso al sistema occupazionale e anche a momenti di lavoro professionale per i giovani. Non è la prima volta che sostengo che in effetti oggi stiamo avendo dei tecnici agricoli, giovani tecnici agricoli, all'altezza della situazione. Dovremo però invitare il momento politico importante in questo momento concetturale che stiamo vivendo a fare una riflessione attenta, dinamica sulle componenti agrarie perché questo ci darà la possibilità di riscattare questo agro e di poter essere competitivi nella regione Campania, in Italia ed in Europa. Grazie a tutti.